un cartellino sopra ce la mettiamo signora e se avremmo mettere un cartellino che è da piccolo mi prenderà il culo tutta la vita la siarca in tinta o prima di tutto che la festa di primavera se viviamo Natale mi mettevamo dentro il sacco termico prendermi che era freddore tornate a queste lettere vi giuro vere le potreste trovare alcune come Araliettina 94 perché si tirano con questi pseudonimi perciò è che dice oltre i dici anni sono alta 1,56 e ho un seno quasi impercettibile ma nel resto sono ben spiguppata cioè il culo grosso mia madre è più bassa di me e mio padre è 1,70 quando potrà